Spinoza, il jolly di Sport Even, due filmati commentati Cimitile e Afragolo, il tuo pensiero sui due gironi di promozione A e B? Sì, allora, il girone A, dicevo anche in diretta comunque, la classifica parla chiaro, c'è il Nola che è la squadra da battere, l'ha confermato anche la presidentessa in studio, hanno costruito un organico per vincere il campionato e hanno tutte le carte in regola per farlo, come diceva anche appunto il direttore Emignano prima, quando in società hai gente del calibro di De Micco, in panchina hai un signore allenatore come Galluccio, è tutto più facile. Ci sono altre squadre come appunto il Campania e il Cicciano che sicuramente potranno dire la loro, di qui al termine della stagione molto si decideva probabilmente anche nel mercato che sta per iniziare. Nel girone B invece, poco da dire, la Fragolese, ripeto, nove vittorie, un Parigi e una sconfitta, ha dimostrato di avere un organico solido, una struttura societaria importante, c'è il pubblico che non fa mai mancare il proprio sostegno. E sì, la maggior candidata appunto alla vittoria finale è proprio la Fragolese. Ci sono poi altre squadre come il Pimonte ad esempio, mi viene in mente, con Vitter in panchina, che in questo caso è un ottimo allenatore da categorie superiori, che potranno fino alla fine insidiare il vertice e magari cercare l'assalto alla vetta.